nuovo. Aveva ragione Cesare Pavese quando disse che viaggiare è una brutalità, obbliga ad avere fiducia negli stranieri e a perdere di vista il comfort familiare della casa e degli amici. Ci si sente costantemente fuori equilibrio, nulla è nostro, tranne le cose essenziali, l'aria, il sonno, i sogni, il mare e il cielo. Tutte le cose tendono verso l'eterno o ciò che possiamo immaginare di esso. Ma è proprio per questo che viaggiare, cambiare ambiente e conoscere altre culture è uno straordinario modo per crescere e per farlo in fretta. Il contatto con un mondo sconosciuto è qualcosa che ti cambia nel profondo perché ti costringe a contare solo sulle tue forze e a superare i tuoi limiti.